Padre Pio aveva un forte desiderio di offrirsi vittima per i suoi fratelli di questa terra e per le anime del purgatorio, ma non voleva fare questa offerta vittimale al di fuori dell'obbedienza e quindi si rivolge al suo confessore Padre Benedetto, suo direttore spirituale Padre Benedetto, il quale approva subito questa iniziativa di Padre Pio e scrive fa pure l'offerta di cui mi parli che sarà accettata dal Signore, stenti pure le braccia sulla croce e offrendo al Padre il sacrificio di te stesso in unione al tenerissimo Salvatore. Patisci, gemi e prega per l'inique della terra e per coloro che sono nell'altro mondo, nel purgatorio. La nostra compassione sia sempre presente con preghiere e suppliche. La lettera di Padre Benedetto possiamo dire è stato proprio un avvio al martirio di Padre Pio. Abbiamo un episodio simpatico ma molto significativo avvenuto nel convento di San Giovanni Rotunto. I frati sono nel coro a pregare prima della cena, uscendo dal coro sentono giù nel chiostro un vociare ad alta voce viva Padre Pio, viva Padre Pio eccetera. Orario che il chiostro è chiuso e quindi il superiore chiama il portinaio, hai lasciato il portone aperto, no no no, vai subito a mettere fuori tutta la gente. E fra Gerardo scende giù. E qual è la sua meraviglia? Che le luci sono spente, nel chiostro non c'è nessuno, il portone è sbarrato, completamente chiuso. Eppure non una persona, non due frati, non tre frati, ma il gruppo dei frati tutti hanno sentito gridare nel chiostro viva Padre Pio, viva Padre Pio. Fra Gerardo risale, avvisa il superiore che tutto è in ordine sotto, non c'è nessuno e il portone è chiuso. E la mattina dopo il superiore chiama Padre Pio e chiede spiegazione. Come si spiega questo fatto? E Padre Pio nella grande semplicità dice, sono anime del purgatorio, soldati morti in guerra, che sono venuti qui a ringraziare per le messe che io ho celebrato in loro suffraggio. Che cosa ci dice questo fatto? Che dei soldati compiono la loro sofferenza, la loro penitenza, non nel purgatorio che noi pensiamo, ma nel purgatorio è anche terreno. Quindi possiamo dire, fanno il purgatorio fuori del purgatorio. Allora, quando noi parliamo di purgatorio, dove possiamo localizzarlo? E qui è un grande punto interrogativo. e principalmente noi possiamo dire, più che in un luogo è uno stato di sofferenza. È tutto, è come dire, è vivere in Dio soffrendo per la purificazione. E quindi questo episodio ci fa comprendere allora che è importante la testimonianza di tanti frati. E il paradiso, dice, è senza porte. Noi possiamo entrare quando vogliamo, ma siamo noi che ci vediamo un po' sporchi nel vestito, che sentiamo il bisogno di andarci a lavare, a indossare la veste bianca per poter entrare nel paradiso. Allora, più che una punizione, è un'esigenza dell'anima nella purificazione per poter entrare nel paradiso, nelle braccia del Padre, Dio Padre misericordioso.